2, 1, vai! Ehi la gente, io sono Cresima, per gli amici sono anche Salvatore. Benvenuti oggi in un nuovo daily vlog. Ragazzi, vi ricordate l'ultima volta con una mia fan? Erano fratello e sorella, sì, sto parlando proprio di lei, Ginevra. Per chi non si ricorda, rinfresco adesso un po' la memoria. Ginevra, mi conosci? Non ci credo. Non ci credo. No, sei tu. Non sei tu. Sono io, Ginevra. Non sei tu. Esatto, hanno avuto una reazione bellissima quando mi hanno incontrato. E allora ho deciso, ma perché non fargli un piccolissimo regalo? Ecco perché oggi andremo a regalargli un iPhone XR. Vabbè, io che mi dimentico il nome dell'iPhone prima di fare il video. Ebbene sì, un iPhone XR. Perché ho notato che Ginevra non aveva un iPhone. Allora ho detto, magari, ragazzina, boh, sogna di avere un iPhone. E vabbè, adesso vi spiego tutto. Ma prima... Guardate quanto è bello Rio qua. Ma, ma Rio, ma lei che ci fa qua? Vuole venire con me a dare il regalo al mia fan? No, vabbè, 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 scusa, eh. Ho capito che vuoi stare nel tuo piedistallo, però dimmelo con calma. Cioè, non dirmelo. Non dirmelo, prepotente. Vuole fatti massaggio quando si mette così. Va bene, va bene, Rio. Dai, vieni qua, dammi un bacino. E ci vediamo dopo. A dopo. Se vi state chiedendo come raggiungeremo la destinazione, eh, sì. Ok, con questa macchina del 1720. Ah, sì, sto imparando a guidare. Eh, vabbè, sì. Vabbè, evitiamo di... So anche accenderla. Cioè, guardate qua, metto quello che devo mettere. Eh, sì, giro la chiave. Ok. E poi tiro questa leva. E si accende. Bellissimo, guardate. Beh, si è spenta. Ok, va bene. Mi sono addirittura organizzato con la madre. E quindi la madre praticamente mi sta aspettando. Eh, devo raggiungere la destinazione con questo rotta... Cioè, che, che alla fine ci sta, eh. E ho anche imparato a guidare, ragazzi. Quindi, eh, è caduta la fotocamera. Ok, è un trattore questa cosa. Vabbè, dicevo, eh, hashtag crazy guidatore nei commenti. E ci vediamo quando avremo raggiunto la destinazione. Cavolo. Eh, a dopo. Siamo arrivati a destinazione. Ma non vi ho fatto vedere effettivamente una cosa. Cioè, ho comprato questo iPhone da un mio amico. Che praticamente si è, si è comprato l'iPhone 11. Allora ho detto, guarda, vendimelo che ci faccio un video. Lo regalo a una mia fan. E quindi è un iPhone 11 usato, ovviamente. Oh, raga, non sono la banca che posso permettermi 28 iPhone 11. Cioè, neanche... Ecco, non ho iPhone 11 a regalare. E quindi, vabbè, è un iPhone XR, raga. Ve lo faccio vedere molto easy. Guardate, questo non è rotto. È lo specchio. Cioè, il vetro usa... Vabbè, il vetro... Insomma, la pellicola di vetro che si ci mette di sopra... E poi è bianco, come potete vedere, raga. Quindi, non so quale reazione avrò. Ovviamente, mettiamo tutto a posto. Vabbè, c'è anche il caricabatterie che mi sono dimenticato a dirvi. E questo qua è proprio il risultato. L'iPhone XR. Interrompo un attimino il video per dirvi di supportarmi come creator. Vittor, codice C-MAD. Se giocate su Fortnite... E, che dire, seguitemi anche su Instagram, crazy.tartino.basso.med. Che ogni giorno vi mostro la mia vita. Vi mostro che prendo la patente di guida. Vi mostro tantissime cose. Ora, mi sta venendo un po' il torcicollo a stare così in alto. Vabbè, codice C-MAD. Se vi va di giocare con me, aspetto il vostro tag su Instagram. Vi lascio al video. Bene, adesso però bisogna suonare. Loro saranno là dentro. Questo è il campanello. Ma, siccome voi, Crazy Mad, lo conoscete, non è una persona proprio normale. Faremo una bella cosa. Accenderemo questa macchina e quindi suoneremo al nostro modo. Se sto proprio suonando... Oh, c'è qualcuno! Ok, penso che qualcuno abbia sentito qualcosa. Speriamo che si affacci, raga. Si spera. Cioè, nel senso... Beh, diciamo che possiamo fare anche alla vecchia maniera. Cioè, non c'è bisogno tutti i giorni di essere Crazy Mad. Quindi suoniamo e aspettiamo che risponda qualcuno. Secondo me ci siamo presi di infarto. Ginevra, ciao! Sì, sono di nuovo qua. Cioè, sono Salvatore, non sono serio. Oh, eccola qua. Ok, avevo paura di... La mia TikToker preferita. Ginevra, come stai? Vabbè, dai. Per la seconda volta qua, come stai? Sto benissimo. Sto bene? Oh, mio Dio. Sempre in ansia. Ma come sempre in ansia? Ormai ci siamo visti, Ginevra. Cioè, non... Non dico. Mi vuole abbracciare. Ok, fantastico. Piccola Ginevra. Allora, allora. Beh, beh, beh. Non immaginare che io non ti seguo, eh. Perché lei, raga, è una TikToker. Cioè, fa video su TikToker, anche su Instagram. Cioè, vincontrattini. Come ti chiami su Instagram? Che non me lo ricordo. htp.gin.29 Vabbè, lo scrivo qua sotto e seguitela. Se vi va andate a vedere le storie, scrivete... Wow, ho visto il video che hai fatto con Crazy Man. Ma, 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 ma. Perché siamo qua? Perché oggi ci devi far vedere come fai un TikTok. Quindi ti darò il mio telefono e farai un TikTok. 2, 1, vai. Eh, però dobbiamo fare il TikTok. Una cosa... Ma, mi spieghi come io non riesco mai a fare... Guardate, cioè, io non riesco mai a fare un TikTok. Tutti questi balletti qua. Vabbè, lei è proprio brava. Vabbè, eh, ok, ok. Ma non siamo qua oggi per questo, Ginevra. Perché le sorprese non finiscono qua. Cioè, in realtà... In che senso? Quali sorprese? Ma perché parlo di sorprese? Perché ho un piccolo regalo per te qua. Ti incuriosisco, eh. Ho un piccolo regalo per te qua. Cosa posso avere, Mike, qua, secondo te? Sei curiosa? Allora, allora, non aspettarti tipo, che ne so, un qualcosa che costa, eh. È un pensiero, come si dice? È un qualcosa che mi è costato 1-2 euro. E quindi ti dico... Chiudi io... Anzi, anzi, mi tolgo proprio la mia bandana e ti venderò gli occhi. Sì, ti venderò gli occhi. Ok, andiamo a bendargli gli occhi perché non deve vedere niente. Vedi qualcosa? No. Quanto è questo? Che numero è? 5. No, perfetto. Ok, non vede niente. Benissimo. Allora, ti chiedo di darmi la mano. Beh, quale mano dirai? Ebbè, effettivamente non ti ho detto quale mano. La mano destra, perfetto. Tranquilla. Quando sei con Crazy Mad non devi avere problemi. Aspetta, fermo un attimo. Devi solamente fidarti di me. Fidati di me. Seguimi. 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 Ok. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. È tutto libero. Lo spazio, seguimi ancora poco poco. Ok. Ok, ferma qua, ferma qua. Adesso fermo qua. Vai un pelino avanti. No. No, stavo scherzando. Ok, questo era il muro. Vabbè, vabbè. Raga, mi piace trollare. Ok, adesso basta. Tranquilla, segui me. Non ci sono problemi. Ti sto portando praticamente nella macchina per farti vedere poi il regalo. Sei pronta? Finita di non sei pronta. Non ti preoccupare. Guarda, se vuoi puoi attaccarti a me. Puoi attaccarti a me. Se ti fa stare tranquilla. Ok, ok, ok. Perfetto. Ci sono qua io. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ok. Adesso stiamo per uscire dal cancello. Pronta? Ok, piano piano. Vieni qua. Dritto, dritto. Perfettissimo. Va bene. Oh, ok. Ferma qua. Guarda, sta tremando. Stai tremando. No, non tremare. Ok, allora. Vai ancora dritto. Piano, piano. Ok. Voilà. Ferma qua. Ferma qua. Ok. Stai ferma qua immobile. Io ho il regalo davanti a me e davanti a te, ovviamente. E lo metterò adesso nel motore della macchina. Fermo. No. Ehi. Non sbirciare. Non sbirciare. Beh, è un po' sporco però. Ok. Allora lo metto qua. Perfetto. Ginevra, togli pure la benda. Vai, togli la benda. Adesso inizia la caccia al tesoro. Dov'è il tuo regalo? Beh, dai, l'hai sentito dove l'ho messo su? L'hai sentito? Sì, sono un po' pigra. Lo so che sono un po' scemo. Però, cioè, che devo fare? Ok. Allora, sei pronta ad aprire il cofano della macchina? Fermo. Fermo. Perché poi... Allora, secondo te, che cos'è? Non lo so. Ok, 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 ok. Allora, io ti dico fin da subito. Scherzavo. È un regalo che vale. È un regalo che vale, Ginevra. Prova a dirmi quanto vale o prova a dirmi? Secondo me vale più di 500 euro. Va bene, dai, apri. Andiamo con un cooldown di 5, 4, 3, 2, 1. Non si apre così il cofano. Non si apre da questa... Da qua. Da qua. Premi. No, di nuovo. Perché... 3, 2, 1, vai! No, no. Allora, ti spiego. Devi premere e poi lui si apre. Di nuovo. No, di nuovo. Perché se no... Eh, no, eh, no. Eh, raga. Eh, di nuovo. Di nuovo per forza. Allora, pronta? 3, 2, 1, vai! Sei serio? L'hai visto veramente già? Non mi... 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 Non piangere, però. Aspetta. Non piangere. Sei serio? Sono serio. Sono serio. Ginevra, un iPhone XR. Tutto tuo. Tutto tuo, Ginevra. Ebbene, sì. Io lo so che voi, ragazze, eh, sognate di avere gli iPhone. Allora, ho detto, ma perché il Crazy Mad non fa felice una bella fan come Ginevra e regala un bell'iPhone? Vai, Ginevra. Prendilo. Non sporcarti, cioè. Ci penso... Ci pensi tu, ecco. Piano, 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 piano. Piano, Ginevra, che vale più di me. Ok, ok. Puoi chiudere. Ebbene sì, Ginevra. Questo è il tuo iPhone XR. È tutto tuo. Io ancora non ci credo. Per fuori, non dirmi che è uno scherzo perché ci rimango male. No, no, non è uno scherzo. Lo so, ecco. Nessuno mai mi crede. Ho sempre scherzi. Questo non è uno scherzo. È un regalo. Vai, aprilo tutto tuo. Ovviamente non è nuovo. Però c'è, è semi nuovo. Nel senso, vai, aprilo e vediamo che succede. Attenzione. Guarda. Sta mettendo su iPhone. Vai. Guarda. Ecco qua l'iPhone bianco. Aiuto. Sta tremando, raga. Sta tremando. Sta tremando. Vieni qua. Dammi un abbraccio almeno per ringraziarvi. Non ha più parole, poveria. Ginevra, che dire? Volevo farti questo regalo. Ho tutto il capo, sì. Vabbè, io ci devo ringraziarti così per l'altra volta perché una fan come te merita di essere premiato. Io spero di regalarlo a tante persone, però, boh, non ho una banca, ecco. Vabbè, sei contenta del tuo nuovo iPhone? Ginevra è contenta. Io sono contento perché faccio del bene. Boh, vuoi dire qualcosa? Ti ringrazio. Sta tremando. Non ha parole, direi, di farla rilassare e poi, poi, vabbè. Sta tremando, raga, vi giuro. Comunque volevo ringraziarti tantissimo, crazy, perché comunque, oltre a fare contenuti molto belli, che guardo comunque ogni giorno, sei anche un ragazzo come pochi. Cioè, sei uno youtuber che ci tiene molto e sei follower. Comunque fa regali, fa un sacco di cose. Ma, Ginevra, io ti ringrazio tantissimo. Queste sono veramente belle parole e ti ringrazio ancora per l'ultima volta. Per me è stato veramente un piacere. Lo doveva vendere a un mio amico ed era semi nuovo, era quasi nuovo. Questo telefono, ho detto, vai, lo compro e gli faccio un pensiero a Ginevra. Che dire, questo video può finire qua. E se questo video arriva a 20.000 like, provvederemo a regalare una Playstation a suo fratello. E non sto scherzando, 20.000 like, regalerò una Playstation a un mio fan. Sviene, ecco, sviene. Raga, che dire, il video può finire qua. Seguitemi su Instagram, crazy, appena posso perdere. Seguite anche HTTP, vabbè, Ginevra. HTTP.Ginevra. Esatto, quello che è, vabbè, un nome più difficile, lo potevi mettere. Che dire, dal vostro matto, dal vostro salvatore, dal vostro crazy, può essere tutto. Noi ci vediamo a un prossimo video.